Le ragazze della Promobol Bienno rimediano una sconfitta in trasferta contro la New Volley Adda. Il risultato finale è di 3-1 per le padroni di casa. All'inizio della gara Promobol Bienno parte un po' sottotono ma riesce a governare bene la gara portandosi sul 6-8. La situazione però si sblocca immediatamente per le padroni di casa che si riportano prima sul 15-11 e poi sul 17-11 con una serie di palonetti, fino a portarsi sul 22-17 quando Tomasi viene sostituita da Turina. La situazione per Promobol si stabilizza sui 19 punti quando la New Volley Adda prende il largo e vince il set. Nel secondo set Promobol parte con Gasparini che porta la situazione sul 2-3. Il gioco risulta molto più bello e equilibrato e sul 14-12 Johnny Taramelli, allenatore della Promobol Bienno, fa un doppio cambio con Papa per Besca e Turina per Di Giulio. Taramelli per sbloccare la situazione chiama il timeout sul 13-16 ma le padroni di casa recuperano fino a portarsi sul 17 pari. Dopo il punto di ganna è la volta dell'avversario di richiedere il tempo sul 23-21 e chiedono il secondo tempo a stretto giro sul 23-24. Gasparini chiude il secondo set per le ospiti sul 23-25. Il terzo set parte con Gasparini che porta le compagne ospiti sul 3-3. Al primo tempo richiesto dalle avversarie però le padroni di casa inseguono sul 7-9. La Promobol comanda anche in occasione della seconda richiesta di timeout sull'11-14. Sul 17 pari Papa e Turina sostituiscono Besca e Di Giulio mentre sul 18-19 Ferrari sostituisce Gunnar. Una serie di errori delle ospiti constringe Taramelli a chiamare il tempo sul 20-19 ma non serve per recuperare i punti. Il quarto e ultimo tempo inizia con un doppio cambio sul 3-4 ed entrano in campo Di Giulio e Beschi. Sul 6-7 entra Gunnar su Ferrari. L'equilibrio continua fino al 9-10 per la Promobol ma le ragazze vanno in confusione e regalano 4 punti di fila. Taramelli prova a smuovere le cose con il doppio cambio, l'ennesimo, ma le ragazze non riescono a reagire e la partita finisce con l'ultimo set che va alle padroni di casa per 25 a 17.